Allora a tutti, io sono Fox e benvenuti in questo nuovo video Allora, anche in questo video non c'è la webcam, la fotocamera, quello che volete perchè praticamente scarica anche la fotocamera, oltre ad avere il telefono rotto quindi non ho niente per registrare la mia faccia e quindi anche l'audio farà un po' schifo però è l'unico modo che ho per farvi avere video Allora, un attimo scusate ma mi si è staccato il cavo del controller, quindi benissimo Allora, oggi giocheremo con United, vi farò vedere il calendario oggi giocheremo con United, simuleremo questa col Cesena, a Cesena giocheremo in casa col Bologna, simuleremo quella in casa col Sassuolo, poi giocheremo quella col Milan poi nel prossimo episodio giocheremo queste tre partite se passeremo in Champions, spero proprio di sì, avremo le due semifinali probabilmente mancano tre, quattro episodi al massimo perchè quello con la Juve, la finale vorrei fare un bel liveetto, sperando di vincere andiamo subito alla partita dai, questa è la formazione, via dai benvenuti a tutti ragazzi e ragazze in questi quarti di ritorno, quarti di finale di Champions League oggi si affronteranno l'Old Trafford, Manchester United e Udinese alla data affinità 3-1 vediamo le formazioni United con Lindegard in porta Raffaele Evans, Jones e Batner in difesa Fletcher e Fellaini credo sulla mediana Valencia, Mata e Kagawa a sostegno di Wayne Rooney risponde all'Udinese con il debutto del giovanissimo in sua in porca poi Yedlin, Milanovic, Ause Douglas in difesa Badu, Chalobai, Pereira, centrocampo o Bianca a sostegno di Luke James e Yassin Benzia possiamo dare via alla gara il lancio per Mata Mata la mette giù prova a saltare house poi il cross di Kagawa sul secondo palo è tutto solo Valencia era uscito in sua ma per fortuna la palla è uscita finisce qua il primo tempo finisce 0-0 a noi va benissimo perché in questo momento saremmo passati dobbiamo contenerlo in United e provare a ripartire in contropiede come stiamo facendo andiamo ora attenzione a Yedlin che si fa attaccare il lancio di Kagawa per Rune che aggancia Rune chiuso di nuovo da Ause che poi sbaglia però attenzione Mata Mata col destro la parata di in sua prima parata della sua carriera da professionista mamma mia il rilancio lungo poi Benzia la gira Obiang cerca di nuovo Benzia gran palla Benzia va col sinistro Yassin Benzia Yassin Benzia Yassin Benzia Yassin Benzia Yassin Benzia diciottesimo in stagione per lui 69 minuti adesso possiamo anche fare un cambio gran palla di Obiang Obiang gli ha dato una gran palla Benzia col sinistro a incrociare ci porta molto probabilmente in finale Badu pronto a mettere in mezzo va Badu a cercare Ause di testa colpisce male Nani Nani tiene palla numero 17 poi palla buona per Cleverly che passa serve Mata 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 a pareggiato Mata gol che serve solo al morale dello United perché deve fare altri due gol siamo al novantesimo si è svegliato troppo tardi lo United ha fatto una grande azione con Cleverly finisce qua finisce 4-2 nel totale 1-1 adesso siamo in finale di Champions League alla prima volta che ci partecipiamo siamo in finale siamo in finale con il nostro 16enne pelato il gol di Benzia alla fine si è rivelato fondamentale perché se no mi sarei cagato sotto molto di più al gol di Mata siamo in finale di Champions e andiamo e andiamo e andiamo quindi Benzia è felice di aver giocato l'ultima partita Zazza che cazzo ti lamenti se sei stanco non posso farti giocare alla gara con il Cesena che simuleremo come ho già letto 5 volte ospiti a Cesena che ha perso col Brescia e col Parma e ha preso 9 gol in totale e ha vinto 1-0 con l'Inter però ha vinto con l'Inter questo qua Salomon ammonito perché mi ammonisce i giocatori prendo più ammonizioni simulando che giocando un campionato Marzial l'ho detto che è fortissimo simulando 1-0 2-0 di Volski Gabrielli che cazzo è l'antipasto è entrato e si è fatto male 2-0 Cesena perfetto a me va benissimo il Milan ci sta sempre attaccato al culo vorrei tanto allenare CR7 ma no a che gioca poco perché non mi piace cioè è fortissimo Camigliano ok ti vendo a che purtroppo ultimamente non mi convince tantissimo allora siamo a meno 6 dalla Juve con le stesse partite e a gli stessi punti del Milan con le stesse con una partita in più io vado a sistemare la formazione e non ci vediamo dopo ok ho fatto la formazione a formazione titolarissima perché se vi ricordate scusate se vi faccio vedere continuamente ma qua abbiamo la partita quindi se usiamo i titolari qua qua con Sassuolo usiamo le riserve col Bayern abbiamo i titolari abbastanza riposati possiamo usare loro poi col Milan vabbè useremo un po' le riserve perché secondo me la Champions è più importante in questo momento benvenuti tutti ragazzi e ragazze allo stadio Friuli di Udine dove si affronteranno Udinese Bologna Udinese che sta lottando per il titolo perché non è molto distante dalla Juve Bologna che penso che stia lottando per salvarsi vediamo la classifica nelle prime dieci non c'è credo si stia cercando di salvarsi noi vedete come si è messi bene Udinese con in sua in porta Widmer Sergio Ramos che è alba in difesa Pogbao Bianca Bruno Fernandes centrocampo Volsk a sostegno di Matos e Luke James Guido Lene all'allenatore risponde il Bologna con un portiere dei giocatori di movimento Agliardi porterà Dacovic Sorians e Cherubin in difesa Perez sulla mediana Crespo Cristo Conei Vitellaro a centrocampo Papponi Acqua Fresca in attacco andiamo alla gara ora Cherubin va a rinvio lungo Sergio Ramos di testa uno dei primi colpi di testa che io ho visto fare ora Volsk cerca la profondità per James che può correre James James mette il cross per Matos tutto solo la parata di Agliardi che parata ha fatto poi O'Bian prova a girarla la palla arriva Matos sbaglia lo stop va in mezzo a cercare Sergio Ramos colpisce di testa colpisce fra le barraccia di Agliardi Crespo va ma sbaglia il passaggio Bruno Fernandes Volsk va largo di nuovo da Bruno Fernandes che mette il cross a cercare James di testa il salvataggio poi palla ancora buona in gioco che viene attaccata ancora una volta dall'Udinese Udinese che attacca con Pogba Pogba mette il cross a cercare Matos di testa la salvataggio la salvataggio la salvataggio di Agliardi in calcio d'angolo che parata ha fatto ora Volski va in mezzo a cercare James di testa poi arriva che colpisce con Eva in mezzo da Cristodulopulos che è in fuorigioco ma ha calciato fuori per fortuna Alaba va da James James tiene palla va da Volski Volski la gira Pogba Pogba può scattare Pogba Pogba che gira palla in difesa fa una specie di tiorello perché gli basta il pareggio noi non riusciamo a tirare facciamo fatica addirittura a tirare questo potrebbe essere un piccolo problema intanto teniamo ancora così se no cambiamo Pogba salta l'uomo ancora Pogba 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 viene trattenuto ma passa Pogba Pogba mette il cross a cercare James di rovesciata che parata ha fatto Agliardi se raggiunge questo pallone in campo aperto Benzia salta l'uomo Benzia 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 la mette bassa il tiro palo ha colpito il palo Zezinho cosa si è divorato il nostro fantasista gran cross di Benzia e Zezinho si è divorato il gol del 1 a 0 che cazzo Zezinho va in mezzo a cercare Sergio Ramos poi la palla al limite per Benzia che la gira Bruno Fernandes il tocco per Pogba che prova al destro Agliardi in calcio d'angolo che parata sul destro secco di Paul Pogba e ora Zezinho Zezinho va in mezzo a cercare James di testa palla alta ora attenzione agliardi va a rilancio a che di nuovo di testa James la gira Benzia Benzia vuole inventarsi qualcosa Benzia cerca una gran palla per James lo stop di James che va col destro poi la palla arriva a Zezinho che trova il gol dell'1 a 0 gol del vantaggio mamma mia se la stiamo rischiando questa partita 81 minuti dopo un dominio totale riusciamo a segnare il gol dell'1 a 0 Stojanovic viene chiuso poi a che pallone allargato per Pogba Pogba il cross di Pogba per Benzia Yassin Benzia sono passati 10 minuti circa e l'Udinese chiude definitivamente la gara il cross di Pogba Benzia insacca per il suo ventesimo gol in stagione se non sbaglio ma finisce qua finisce 2 a 0 per l'Udinese questa partita in caso contro Bologna in sua mi fa sempre più paura è bruttissimo comunque Zezinho e Benzia in sua fatto non ha fatto parata in questa partita Zezinho e Benzia davvero ah no questa ha fatto davvero una un tiro in porta ha fatto un tiro ha fatto il Bologna Zezinho e Benzia cambi giustissimi del mister e la Juve ha vinto 2 a 1 con l'Inter che sfiga se no si rallentava era una delle ultime occasioni ora andiamo io andrò a sistemare la formazione metterò più riserve possibili anche in sua lo lascerò dentro e giocheremo cioè simuleremo questa partita con il sessuolo e poi andremo a giocare col Bayern Monaco ok ragazzi questa è la formazione vedete cosa mi sono dovuto inventare perché Zezinho e Volski non hanno più cioè hanno la barra più o meno a metà a metà cioè sono sul giallo circa e ho dovuto mettere Benzia trequartista con Marziale e Zazza attaccanti andiamo a simulare la partita con il sessuolo vamos dai tre pareggi speriamo che non pareggia anche con noi mentre la Roma vince col Milan benissimo il Parma vince con l'Atalanta non mi fa né caldo né freddo il Milan pareggia e noi non facciamo Cialoba stavo dicendo noi non facciamo un cazzo ha segnato Cialoba comunque il Milan rimonta gol del Sharawi dobbiamo far qualcosa anche se non faremo un cazzo come al solito espulso Cialoba in campionato Badu 2 a 0 la chiude Emmanuel Badu mi stavo cagando sotto abbiamo giocato con l'uomo in meno Cialoba Cialoba ahhh aiuto ah ah ho visto una cosa bruttissima guardate in ultimi risultati cioè vabbè a parte il Milan che ha vinto e non va bene guardate che ha segnato dell'Inter avete visto che ha segnato dell'Inter ha segnato Schelotto Schelotto sapete chi è Schelotto è Schelotto comunque Badu e Cialoba segnano giocatore squalificato Cialoba per una partita lo so doppio giallo vabbè voi non mi interessate ok ragazzi ho fatto la formazione giochiamo in casa cominciamo in casa è forse una cosa buona perché se sappiamo messi fuori nove giorni ed è una cosa bellissima ma ci sarà dall'altra parte cos'è che c'è ah Barcellona in Real 1 a 1 quindi in questo momento il Barcellona sarebbe passato e vedete il mio Benzia il nostro Benzia comunque vedete la formazione ho dovuto mettere quelli meno stanchi cioè in attacco intendo Zaza almeno stanco oltre vabbè a James che non gioca da due partite circa no l'ultima la penultima la giocata comunque andiamo benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo stadio Friuli di Udine dove si affronteranno Udinese e Bayer Monaco in questa semifinale di Champions League entrano le squadre in campo l'Udinese inquadrato con l'ex della partita David Alaba l'Udinese quelli dell'Udinese stringono la mano quelli del Bayern Alaba un portiere che non scusate Lama un portiere che non conosco Ribery Götze Dante credo sia Batstuber Avin Martinez andiamo a vedere le formazioni Udinese con scuffati in porta Wiedmer Salomon Milanovic e Alaba in difesa Pogba Obiang e Pereira centrocampo Zezinho a sostegno di Luke James e Simone Zazza Francesco Guidolin l'allenatore che ha portato questa squadra ad alti livelli ora al Bayern Musler in porta Lama Stuber Dante contento anche io sono contento in difesa scusate scusate la battuta Avin Martinez e Swansteiger a centrocampo Müller Götze e Ribery a sostegno di Benzema che cazzo Benzema ok tiene il servizio Alaba falce subito Müller il suo ex compagno di squadra si becca già il cartellino giallo giallo sacro santo qua no ha falciato Götze si sono conosciuti si 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 conoscono si conoscono vede lo spazio per servire Zezinho Zezinho può correre Zezinho rientra Zezinho Zezinho taglia il campo Zezinho non riesce a calciare per un pelo ora alaba riesce a spostare il berri che lo spinge via altro fallo e altro cartellino giallo molto nervosismo fra i big dell'udinese ha munito anche Götze per un fallo precedente mamma mia quanti gialli si qua possiamo rivedere perché è stato munito Götze ma quanti cartellini gialli prova ad andare in profondità da Zazza è una gran idea Zazza Zazza mette il cross in mezzo gran recupero di Dante poi James che parata ha fatto Muslera e ora Zezinho prova a rigiocarlo Bianco lo stop il destro palla fuori ora Muslera rinvio lungo Milanovic chiude su Benzema poi Zazza riesce a girare palla Dante si fa attaccare James James tutto solo James cosa ha sbagliato poi arriva Zezinho di nuovo Muslera mamma mia che partita di Fernando Muslera mamma mia ora Zezinho mette il cross a cercare Salomon di testa poi palla che arriva Zazza anticipato palla al limite per Alaba Alaba va col sinistro Muslera blocca senza grossi problemi poi Muslera Dante rinvia attenzione a Zazza che recupera palla James va col sinistro la parata di Muslera attenzione Müller pronta ad andare in mezzo alla difensiva al Bayern scuffette palo e poi rilancia lungo Pereira mamma mia aveva colpito di testa non ho visto chi ma ha colpito il palo e si chiude qua al primo tempo brivido finale Bayern Udinese Bayern 0 a 0 ha fatto due tiri il Bayern ed è stato più pericoloso quasi di tutti i nostri però eh si loro non contano i pali come ti rimporta andiamo avanti così Widmer c'errebbe rinchiuso verso di lui Widmer tiene fisicamente Widmer il cross a cercare Pogba di testa traversa poi palla che stava arrivando a Zazza mamma mia che traversa colpita da Paul Pogba poi sa come gestire palla il Bayern ma è un po' in difficoltà ora Zezinho lancia Pogba Pogba lo stop Pogba prova a rientrare Pogba ha segnato tantissimo ma quando serviva ha segnato come ora col sinistro dopo la traversa il gol se lo meritava Udinese 1 Bayern 0 è impossibile togliergliela attenzione il passaggio di nuovo per Ribéry 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 passare ancora James 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 la palata di Musler che azione di Luke James ora attenzione a Volski che metterà l'angolo in mezzo Volski va a cercare Milanovic di testa anticipato poi Benzia la gira Pogba Pogba va di nuovo da Benzia che la gira di nuovo Pogba Pogba il cross troppo su Musler che blocca per era seduffato in rete Benzia va in profondità da cross attenzione cross 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 salva tutto scuffetto con il suo intervento finisce qua Udinese batte Bayern 1 a 0 il gol decisivo di Paul Pogba ha salvato tutto scuffetto all'ultimo secondo con il suo intervento in scivolata che ha messo fuori posto Toni Cross grandissime occasioni per noi abbiamo dominato la partita contro un Bayern che teneva solo palla e andiamo così e andiamo così grandissima partita ragazzi alla ma è felice di aver giocato andiamo a vedere la classifica al mio Brescia nonostante le ultime vittorie sempre ultimo probabilmente si è già retrocesso ormai Sassuolo e Cesena rischiano di retrocedere in Europa League ci sarà molto probabilmente la Roma che affronterà il Tottenham secondo me e qua secondo me ci potrebbe essere un Barcellona Udinese che mi piacerebbe noi siamo già in finale qua qua siamo stati campioni le partite decisive sappiamo quali sono se il video vi è piaciuto mi piace commentate iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti